Buongiorno, abbiamo visto l'ultima volta come rintracciare un po' di textures durante questo video faremo una cosa un po' intensa, soprattutto per chi non la conosce cioè vedremo come usare dei vari tipi di textures abbiamo visto la volta scorsa che le textures possono essere fondamentalmente questa vedete che è una foto di un muro ad esempio che la prendiamo e ce la salviamo quindi facciamo save image as e ce la mettiamo facciamo sotto cropped wood e lo mettiamo quindi stone texture 10 seamless quindi un'immagine seamless che è la foto di un muro questa diventerà la nostra diffuse texture ma oltre alla texture questa che risulta un po' piatta abbiamo la possibilità di avere una normal map normal map vuol dire in sintesi una misura di come la luce si rifrange sul muro quindi ci aiuterà a descrivere un po' tutte le increspature del muro quindi salviamo anche questa immagine ce la salviamo stone texture nrm quindi normal map stone texture texture di muro di pietra di mattoni normal map e poi vedremo che c'è anche una hate map che c'è una mappa delle altezze cioè dice anche questa come il muro insomma cioè molto simile alla normal map ma descrive quanto il muro si sporge in fuori quindi questo descrive un po' una struttura leggermente più macroscopica laddove la normal map descrive proprio le increspature del muro in realtà alla fine e all'atto pratico sono abbastanza simili tanto è che in alcuni contesti quindi questa qua si chiama DISP si usa quasi esclusivamente la normal map comunque noi la vediamo tutta insieme quindi questa c'è un original normal map ma in questo caso cosa fanno? hanno migliorato vedete che qui in realtà qui mancano un pochino di dettagli e quindi prenderemo in realtà queste queste due normal map cioè questa normal map è una hate map che sono come vedete un po' migliorate quindi hanno più dettagli quindi una normal map normalmente è violetta con queste strutture dove dice praticamente come sono fatti bene e prendiamo questa in hindsight quindi facciamo save image railing lower railing normal maps questa e poi questa save image as lower railing height quindi prendiamo lower wall railing queste due immagini quindi in pratica ne useremo tre una due e tre immagini ok quindi adesso andiamo finalmente in blender e cerchiamo in blender un po' di orientarci sulle texture quindi partiremo fondamentalmente da non da un cubo ma bensì conviene partire da una sfera almeno per farvi vedere il funzionamento shift a e aggiungiamo una uv sphere questa la uv sphere la gli diremo di autogenerarsi le uv questo ci permette di tagliare un pezzettino e magari 3216 mettiamo quindi un pochino di più del default quindi è leggermente più definita e gli facciamo uno smooth ok questa è la partenza dopodiché a questo punto cerchiamo di vedere come come aggiungerci un materiale abbiamo visto nella prima lezione abbiamo visto che di fatto c'è un materiale no questo materiale ecco dobbiamo andare magari in cycles ok quindi il materiale material useremo i nodi su questo materiale lo facciamo adesso lo facciamo un po' come quel muro adesso verrà un po' distorto ma era solo per farvi vedere bene il concetto allora perché usiamo una sfera e perché le normal map visto che lavorano molto con le superfici che hanno degli incavi delle incisioni per poter essere costate al meglio devono avere una luce incidente quindi una luce che arriva tangenzialmente no e sul cubo è un po' più difficile da esprimere questa questa cosa almeno a livello didattico invece con la sfera risulta abbastanza semplice vedete che qui c'è un momento in cui la luce che arriva questa incide e si riflette e quindi può generare più facilmente questi effetti particolari bene allora diffuse bsdf però ci prepariamo ora al grosso della lezione che sono i node editor quindi prima di tutto dividiamo lo schermo in più parti qui magari ci teniamo no qui la parte più grossa ci mettiamo i node editor ok e nella parte questa la dividiamo ulteriormente in due perché nella parte di sopra ci vogliamo mettere lo v imagetto che saranno le le nostre texture su cui lavoreremo e poi vogliamo vedere il nostro oggetto come verrà quindi ci facciamo proprio la nostra visione 3d quindi la visione 3d la vediamo un po' tutta un po' così e magari per ecco questa poi ognuno può essere organizza come vuole ecco qui facciamolo lo facciamo in due viste perché in una vista voglio vedere fondamentalmente anzi facciamolo grossina così si vede bene ok questa vista qua la facciamo rendered che vuol dire vediamo effettivamente come viene a seguito di tutta l'illuminazione netta mentre invece la seconda vista la facciamo material perché material perché così vediamo meglio dove sono la telecamera dove è la luce e così via quindi la prima cosa da farsi è vedere che si è illuminato un pochino decentemente quindi selezioniamo la luce e la luce la facciamo quindi facciamo sempre con i nodi anche la luce vedete qui si vedono i nodi ma in realtà è abbastanza semplice la facciamo non so 2000 ok vedete che la stiamo illuminando in maniera un pochino decente ok e poi andiamo a prendere sul nostro abbiamo salvato le nostre immagini vedete questo andiamo nel nostro folder che era downloads cropped wood e andiamo a prenderci finalmente ci carichiamo le immagini che ci interessano quindi facciamo open andiamo sotto questo direttorio prendiamo in ordine temporale qui ci prendiamo innanzitutto dunque stone texture questo la stone texture 10 seamless questa vedete che è il muro come apriva poi apriamo ancora le ultime due che avevamo messo che erano la quindi vediamo sempre qua quindi la normal map uno vedete che la normal map è questa qui violetta e poi in più ci apriamo ancora la la hate map ok che è questa qui in bianco e nero ok quindi noi abbiamo alla fine in questo momento uno due e tre mappe ecco in questo caso ci mancherebbe la specular map adesso andremo un attimo ricostruiremo la specular map la prenderemo probabilmente basandoci su una di queste quindi la specular map sarà un po' dove l'oggetto rifletterà quindi sulle parti bianche della specular map l'oggetto riflette e sulle parti nere invece non riflette quindi per esempio noi potremmo prendere a prestito questa immagine come se fosse una specie di specular map e vedete che rifletterà in queste zone in queste zone bianche e questo darà un po' la sensazione che il muro sia bagnato insomma perché riflette più lì infatti un muro quando è che può riflettere? quando tipicamente è umido quindi questo è interessante perché a seconda di cosa usiamo vengono degli effetti totalmente diversi ok allora torniamo sul nostro oggetto quindi selezioniamo la nostra sfera questa e vedete che la nostra sfera è composta adesso qui restringiamo così vediamo il nostro node editor diciamo al massimo delle sue possibilità vedete che avendola creato così esiste soltanto un diffuse che è bianco quindi la sfera l'abbiamo fatta bianca in teoria potremmo fare la sfera di un colore diverso per esempio potremmo fare la sfera di un colore giallino e quindi vedete che viene un po' gialla e qui possiamo controllare anche quello che è la ruvidità la ruvidità vedete che qui abbiamo messo zero in realtà la ruvidità può essere messa anche un po' di più quindi tipicamente molti di questi parametri viaggiano fra zero e uno quindi se mettiamo zero abbiamo un estremo in cui è liscia ma se la mettiamo uno invece vedete che cambia un pochino il modo in cui riflette la luce questo è interessante ah qui vedete questi difetti qua sono dovuti al fatto che stiamo usando pochi vertici e quindi lo shader segue un po' i vertici che trova e quindi dà un pochino i difetti se non volessimo vedere questi difetti dobbiamo aumentare il numero di vertici ma i fini didattici adesso ci teniamo questo difetto lo stesso fenomeno lo vedete anche attorno vedete che nonostante che sia una sfera appare diciamo come con questi angoli come se fosse una sorta di poligono ok allora quindi vedete un po' qual è la resa che vi sembra più naturale in questo senso in questo momento forse zero potrebbe essere la migliore oppure anche un valore intermedio 0,5 ad esempio di rubidità però forse zero in questo caso è migliore di volta in volta diventa la cosa ideale ok allora a questo punto proviamo a vedere di aggiungere l'effetto riflessione cioè l'effetto riflettente no cioè che riflette la luce come si fa a riflettere qua bisogna usare non il diffuse ma un altro un'altra tecnica c'è un altro nodo i nodi si aggiungono qua add e noi aggiungiamo anzi prima di andare sull'effetto su quell'effetto proviamo a metterci la texture no quindi vi ricordate che nell'altro video abbiamo detto che basta cliccare qua e si aggiunge un image texture e l'image texture la apriamo sulla stone texture quindi vedete che abbiamo ottenuto effettivamente una cioè praticamente stiamo vedendo la la sfera no con come fosse appunto questi mattoni volendo fare in modo tale che si veda diciamo i mattoni più più stretti bisognerebbe cambiare leggermente lo vmap questo magari sarà un argomento di un prossimo tutorial oppure anche si può rifare lo vmap restringerla cioè allargarla restringerla in modo tale da avere lo vmap corretta ma possiamo anche provare a farla per dire giusto noi selezioniamo questo andiamo in edit mode no selezioniamo tutto ok e poi da qua potremmo fare S vedete che se noi espandiamo la vmap vedete che otteniamo l'effetto di poter avere un muro un pochino più credibile come fosse una sfera fatta di mattoni ok quindi questo è su per giù quello che abbiamo visto nelle lezioni precedenti ora vogliamo aggiungere un effetto di per esempio di riflessione quindi come si fa a riflettere bisogna mettere un diciamo poco fa un glossy glossy vuol dire appunto un materiale che riflette quindi facciamo add allora e uno shader e scegliamo il glossy attenzione non il glass che è vetro che diventa trasparente ma il glossy che invece è un effetto di trasparenza quindi dobbiamo infilare questo dentro la surface se lo mettiamo quello che otteniamo che effettivamente riflettiamo ma perdiamo la diffuse quindi cosa dobbiamo fare dobbiamo unire la diffuse e il glossy come facciamo unire queste due cose dobbiamo mettere qua in mezzo un qualche cosa che misceli queste due immagini esiste ed è sotto lo shader e abbiamo un mix shader lo mettiamo qua vedete che questo qui cosa fa fondamentalmente prende due input quindi in questo caso prendiamo l'input del del nostro oggetto ok e gli mettiamo il glossy quindi fin qui andrebbe tutto bene salvo che non riusciamo cioè dovremmo avere una specular map su cui farlo controllare quindi dovremmo in teoria metterci un'immagine che controlli come rifletta quali parti riflettano e abbiamo detto prima possiamo cliccare qua fare shift d quindi duplicare l'immagine e qui ci mettiamo e qui ci mettiamo per esempio questa che sono la height la height vi ricordate che era questa quindi diciamo che rifletterà nelle zone bianche di questa e a questo punto visto che questa immagine la usiamo non per i suoi colori ma per i suoi aspetti diciamo non colorati cioè bianco e nero in realtà ci interessa attacchiamo questo qua ok quindi vedete che qui abbiamo che le zone che riflettono di più sono fondamentalmente alcune zone e altre no quindi vedete che cambia abbastanza il meccanismo di riflessione anche qua abbiamo come vedete una ruvidezza che possiamo mettere a zero quindi in realtà con una ruvidezza a zero non riflette praticamente oppure aumentarla e quindi ottenere degli effetti di riflessione diciamo progressivi ok quindi abbiamo fondamentalmente abbiamo la possibilità quindi di di vedere la riflessione però vedete le riflessioni su un oggetto tutto sommato piatto come questa sfera dove c'è una texture applicata piatta non sono proprio ben fatte quindi occorre a questo punto dettagliare tutta la microstruttura quindi tutte le tutte le collinette tutte le graffiti tutto il basso rilievo di cui è fatta questo questo muro e per far ciò dobbiamo a questo punto ingrandiamo quindi ci ci mettiamo un po' grandi perché aumentiamo e aggiungiamo che cosa la allora questo qui era la height map no e la height map la mettiamo in un blocco che in inglese dunque tutte le alterazioni della superficie si chiamano il bumping quindi il bumping quindi bumping mettiamo bumping qua e cosa facciamo sostanzialmente usiamo l'immagine questa qui dell'altezza e gliela mettiamo qua sul height e questo ci genera una normale che possiamo applicare contemporaneamente qui alla normale della diffuse vedete cambia completamente qui praticamente abbiamo detto che la diffuse obbedisce al bumping ma anche qua sotto sulle riflessioni e vedete che abbiamo un effetto molto molto interessante in cui stiamo controllando col bumping no col bumping abbiamo la possibilità di dire qui abbiamo le zone bianche che insomma sono un po' più che escono fondamentalmente mentre le zone scure di questa immagine sono quelle che rientrano quindi qui vedete che questo effetto se volendo in alcuni casi può essere opportuno fare l'inverte che però si attende un effetto un pochino meno naturale quindi teniamo questo quindi già così abbiamo visto l'applicazione no di questi di questi meccanismi che abbiamo detto quindi l'applicazione di una height map applicata a una diffuse map oppure applicata alla glossy una domanda che mi era posto fin dall'inizio era cosa serve perché questo displacement ha un po' lo stesso significato dell'image texture quindi in teoria si potrebbe prendere questo colore e metterlo sul displacement ma letta la documentazione facendo arrivando direttamente qua si ottiene un meccanismo simile quindi si potrebbe ad esempio togliere questo togliere questo no e il questo oggetto lo facciamo arrivare sul displacement e otteniamo un effetto simile ma come vedete un po' difficile da controllare no non è proprio bellissimo quindi la cosa ideale qui è proprio fare come abbiamo detto cioè la height questo va nella height e questo va nelle normal della diffuse e della glossy ok già così siamo a buon punto però se fatto il caso non abbiamo usato la normal map quindi non usando la normal map se volessimo usare la normal map è sufficiente aggiungere quindi facciamo shift d aggiungiamo un ulteriore questo lo associamo alla nostra normal map questo qui vedete che è viola e poi però l'alfa che esce dobbiamo farlo entrare nel normal e quindi dobbiamo trasformarlo e convertirlo in un normal qui in generale non è quasi mai opportuno fare in modo tale che dei colori diversi arrivano in colori diversi quindi vedete questo giallo giallo vuol dire che è un colore va su un colore questo giallo su hate è già un po' sbagliatino perché dato a normal map mettiamo anche questo non color data perché dovremmo dovuto convertire il colore in un black and white però diciamo che in linea di massima spesso può essere tollerato cioè l'errore che si produce non è elevatissimo e quindi per semplicità in questo tutorial lo faccio arrivare direttamente ma far arrivare un colore dove vuole la normal map invece questo è completamente sbagliato e quindi dobbiamo quindi facciamo così aggiungere una conversione che ci permette di generare praticamente una normal map quindi la normal map la cancelliamo dobbiamo metterla quindi prendiamo vector normal map qua e quindi facciamo uscire il color lo mettiamo qua dentro la normal map e poi prendiamo l'uscita della normal e lo mettiamo qua e poi prendiamo il color lo mettiamo qua se volessimo fare proprio i fiscali convertiamo il colore in dunque c'è un 1 che ecco rgp2bw e un piccolo diciamo blocco che mi converte un colore giallo in un valore che possiamo mettere nella height che vedete è molto simile a quello che abbiamo visto prima e quindi abbiamo in questo modo applicato le due cose notate che aggiungere contemporaneamente i due effetti è come se si raddoppiassero ecco perché spesso in realtà si preferisce no usarne uno solo dei due effetti quindi usare per dire soltanto il questo qui l'image texture e a questo punto si può anche semplificare nel senso che non c'è bisogno di usare questo bump quindi togliamo togliamo quindi questo e noi questi blocchi qua questo qua che abbiamo usato lo possiamo tenere un attimino lì e usare direttamente la normal che è questa vedete che la normal ha effetti e ci dà comunque un effetto che è abbastanza già comunque interessante quindi in questo modo noi abbiamo praticamente messo già un effetto molto migliore vi rifaccio vedere cosa succede se tolgo la normal map vedete che rimane piatto mentre invece se metto la normal map soltanto sulla riflessione già è buono se aggiungo la normal map anche sulla diffuse diventa buono quindi questo diciamo che probabilmente è una delle cose migliori mentre invece aggiungere il passare da qua quindi togliamo togliamo questo signore quindi facciamo il giro che abbiamo fatto prima quindi che mette questo vedete che ci dà forse una quantità eccessiva di dettagli quindi in realtà bisognerebbe controllare la quantità che stiamo applicando su questa cosa qua quindi per dire la distanza qui si può ridurre vedete che possiamo mettendo a zero otteniamo in sintesi soltanto l'effetto associato alla normal map mentre invece aumentando aggiungiamo l'effetto associato alla alla height map quindi possiamo mettere 0 0 1 quindi otteniamo vedete un effetto un po' più intenso rispetto alla normal map da solo ma tollerabile insomma visibile quindi diciamo che abbiamo visto in sintesi le basi riassumiamo brevemente quindi noi adesso abbiamo una immagine che ci rappresenta il nostro oggetto cioè il nostro muro abbiamo una questa che rappresenta la normal map e un'immagine che rappresenta la height map ci mancava un'immagine che rappresentava la specular map in questo caso in altri casi ce l'abbiamo se ce l'avessimo la metteremmo qua e metteremmo un'immagine specifica per la specular map adesso vedremo che in realtà faremo un altro video tra poco lo farò dove farò una piccola diciamo un piccolo aggiustamento cioè metterò in un modo un pochino diverso questi nodi per ottenere un controllo maggiore ma lo vedremo nel prossimo video